Bianco neri, sulle scelte, e forza Juve! Per i nuovi soci, 20 per gli under-16 e le donne. Tessera Juventus Official Fan Club, che comprende l'affiliazione allo Juventus Official Fan Club Fratelli Bianconeri, 45 euro all'anno. Con queste due tessere potrai seguire con noi dal vivo le partite della Juve e fruire di numerosi vantaggi. Scoprili attraverso la nostra pagina Facebook Juventus Club Lizzano Bianconera o vienici a trovare a Lizzano in piazza Matteotti 22 o contattaci telefonicamente. Antonio 348 80 8 8 8 0 3 Cristian 349 68 000 66 Giuseppe 347 04 17 623 Non ti resta che diventare socio e grida con noi. Forza Juve fino alla fine!